Antonia Arslan non smette mai il dolce sorriso che la contraddistingue, nemmeno quando elenca con memoria cristallina date i numeri del massacro degli armeni. Al perché di Ronkade, a Treviso, dove l'amore per il buon cibo da sempre si coniuga con uguale passione per la cultura e la sua condivisione, nel giorno della memoria in cui tutto il mondo commemora l'olocausto che sterminò milioni di persone, le luci si sono accese anche su un altro genocidio, quello degli armeni, che ancora oggi la Turchia non ammette. Antonia Arslan, in conversazione con il giornalista, viaggiatore ed enogastronomo Renato Malaman, ha attraversato i secoli raccontando anche l'Armenia dei nostri giorni, meta turistica ricca di fascino e anche le tante contraddizioni della Turchia di oggi. Antonia Arslan, è un momento tra l'altro sempre complesso del panorama internazionale, abbiamo visto in questi giorni in Turchia i kurdi di nuovo aggrediti e lei anche nel suo intervento di oggi ha posto l'accento sul fatto che bisogna tenere gli occhi bene aperti su questo paese che si affaccia sull'Europa e ogni tanto cerca di entrare. Vede, la Turchia è un grande paese, bisognerebbe che loro stessi se ne rendessero conto, che non si può costruire però su una rimozione collettiva e questo lo dice anche Hassan Germal, che è nipote di uno dei perpetratori del genocidio e che ha fatto tutto il cammino di riconoscimento della tragedia armena. Perché tutte le energie che potrebbe sviluppare il popolo turco sono in parte compresse in questo negazionismo senza scopo, cieco. Io credo che l'attuale situazione che dura da tanti anni anche contro il kurdi, che è l'ultima minoranza a rischio, ma che sono molto più numerosi, dimostra una politica ossessiva che continua ancora e che preclude alla Turchia di occupare il posto che meriterebbe anche fra le nazioni. Lei l'ha scritto nella sua lettera a una ragazza giovane ideale, cercando di lasciare un monito importante. Ma sì, perché vede, quando ho scritto quel libro, Lettera a una ragazza in Turchia, ho scritto quella prefazione perché in realtà queste ragazze di Turchia di oggi sono state abituate a vivere come le nostre, a una certa libertà e si vedono come una cappa di metallo quasi, che man mano si abbassa su di loro e cominciano ad avere paura, cominciano a non avere più, a avere minor forza, no? Ad avere, non so, cose ormai antiquate per la Turchia come il velo che diventa man mano, che è solo un simbolo naturalmente, ma che diventa un simbolo forte. Io credo che bisogna, quello che ho scritto è che gli suggerivo la pazienza che le donne armene hanno avuto, ma sono lunghi attraversamenti, non facili. Una serata dedicata interamente alla conoscenza della terra d'Armenia, ai suoi rapporti con l'Italia e con Venezia su tutti, grande al punto di aver accolto gli armeni senza cedere a ricatti anche in piena diaspora. È conclusa con una cena alla scoperta di sapori e profumi della cucina armena, tra fragranze di limone, prezzemolo, aneto e acqua di rose, carni speziate e dolci raffinatissimi. perché la cultura di un popolo si legge anche a tavola.